Anche quest'anno va in archivio la 17esima edizione del giro podistico dell'isola di Ponsa. È una decina d'anni che come staff Lupo, così ci definiscono, giù a Ponsa, che collaboriamo con Rossano Di Loreto, isolano del posto appassionato di podismo, che da 17 anni organizza questa manifestazione. Come Lupo, come staff del Lupo, un gruppo di amici, andiamo a organizzare da decina d'anni questa manifestazione. È un'isola meravigliosa, che poi vedrete anche dalle immagini. Sono quattro tappe suddivise in tutta la settimana. La prima tappa si parte da Ponsa, si arriva alle Forna, per chi conosce l'isola, sui 7 km. La seconda tappa da Chiaia di Luna è una crono scalata che si arriva sul monte alle spalle del porto, per un totale di un chilometro e mezzo. Il giorno mercoledì riposo, è un giorno a tappa di riposo, dove si va in gita, si va a visitare una meravigliosa isola che è Palmarola. È dista un'oretta di barca dal porto di Ponsa, ed è un'isola che si fa benissimo in giornata, ci si ferma in una calla a mangiare qualcosa tutte assieme, tre barche, eravamo in 150-180 persone. Direi che è una gita meravigliosa. La terza tappa è il giro della miniera, è una vecchia miniera di disuso da diversi anni, dove si parte sempre dalle Forna, si fa il giro delle miniere, si torna lì, per un totale di 6 km. L'ultima tappa è il giro della panoramica, con arrivo e partenza dal porto. Venerdì sera festa finale con premiazioni individuali e di società. Quest'anno abbiamo avuto all'incirca 120 iscritti alla competitiva, più vari giornalieri che correvano una tappa e poi se ne andavano per ragione di lavoro e per impegni diversi. Abbiamo avuto anche oltre 30 persone che hanno fatto il feedwalking. Ogni anno crescono, abbiamo avuto sempre negli anni un aumento. Quest'anno direi che siamo come forza fisica, siamo quasi al limite per organizzare questa manifestazione con tutte le difficoltà che ci sono, pensate voi, in un'isola dove bisogna inventarsi di tutto. La collaborazione con questa manifestazione è con il Comune e la Proloco di Ponsa. Abbiamo anche tanti altri sponsor che ci portiamo con noi come la Biper Banca di Modena, abbiamo l'azienda agricola Morselli di Ganaceto che fa prodotti marmellati e roba del genere, la Ombre che conosciamo, la Sorgente di Lamo Mocogno, abbiamo la Con del Villaggio Giardino, abbiamo Vini Chiarli e abbiamo anche l'aceto balsamico del Duca. Noi siamo già al lavoro per la diciottesima edizione che ogni anno si svolge sempre la prima settimana di luglio. È un'isola da visitare, è un po' sconosciuta, con questo giro tappe la gente comincia a conoscere anche il nostro lavoro, cominciano anche a conoscere questa isola. Seguiteci su Facebook su diverse nostre trasmissioni dove andiamo anche la domenica nelle manifestazioni dove andiamo fra un mesetto circa a portare il nostro programma. Seguiteci, Ponsa Merita non è lontano, da Formia con due ore di traghetto si arriva a Ponsa. È bellissimo. Grazie a tutti.